Presso l'House of Commons, esperti scientifici e politici hanno parlato dell'aumento di spaccio di nuove droghe online. L'evento è stato presieduto dalla professoressa Ornella Corazza, che da anni studia e ricerca droghe emergenti. Si tratta di un fenomeno che abbiamo studiato con il mio team a partire dall'inizio del 2000. Sono disponibili sul web, quindi acquistabili online e sono sempre più potenti. Ed è per questo che sono necessari i provvedimenti affinché si possa ridurre il fenomeno in Regno Unito. Crediamo che la tematica abbia bisogno di un profilo parlamentare, dichiara Lord Taylor of Holvich, la cui idea è sostenuta dall'MP Gareth Bacon, sostenitore parlamentare dell'evento, il quale ha aggiunto Un profilo parlamentare permetterebbe ai politici di sottolineare il problema sui loro media e se questo dovesse avverarsi ci saranno altri eventi che discuteranno anche i risultati delle loro indagini. È interessante riconoscere che il fenomeno è diffuso anche in Italia, come ha testimoniato il professor Fabrizio Schifano. Il fenomeno è diffuso sia in Italia che nel Regno Unito. Il numero delle sostanze psicoattive che noi abbiamo identificato è superiore a 4.300. Alcuni di essi sono 10.000 volte più potenti della morfina. È difficilissimo identificare 4.300 prodotti sulle urine. Similiarmente, il professor Owen Bowden-Jones sottolinea altre sfide incontrate in ambito clinico. La sfida è che abbiamo tante nuove droghe che non conosciamo e inoltre non sappiamo alcune informazioni in merito per poter iniziare delle cure. Tuttavia, attraverso questo evento organizzato da Chris Finante, stratega politico, il Regno Unito ha iniziato a prendere consapevolenza della tematica nella speranza di proteggere le future generazioni dal consumo di stupefacenti che danneggiano la salute dei cittadini.